L'Associazione Culturale Amiterno, in collaborazione con l'ASBUC di Preturo, organizza il 10, 11 e 12 agosto a Cese di Preturo la festa degli gnocchi. La tradizione di un piatto tipico, ammassato ancora a mano dalle massaie di Cese e cucinato dai soci dell'Associazione Culturale. Gli gnocchi verranno cucinati in vari modi. Saranno i protagonisti della tre giorni nella frazione del Comune dell'Aquila. Buon cibo, ma non solo. Tante le iniziative previste con musica live, balli di gruppo, liscio e anche attività ludiche per i più piccoli. Gli stand si troveranno nel Circolo Sant'Anna, vicino il progetto case di Cese di Preturo.